La lettura Ovidi della regista Davide Cavuti, protagonista all'Italia Contemporary Film Festival di Toronto con la prima mondiale domenica scorsa al TIF Bell Lightbox. Il film documentario prodotto da Mute Art vede la fondamentale collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio di Sulmona con il project management della dirigente scolastica Caterina Fantauzzi. Si ispira infatti all'omonima rassegna che con spettacoli al Teatro Caniglia di Sulmona coinvolge docenti e studenti. Girato fra Sulmona ed intorno di Atri e la mare di Ortona, scelto per ambientare il periodo di esilio a Tomi sul Mar Nero dove Publio Ovidio Nasone morì, il lavoro di Cavuti vanta la sostegno del MIUR e la collaborazione del Comitato Scientifico della Certamen Ovidianum Sulmonese di Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, città di Sulmona e associazione amici della Certamen, coinvolti anche Domenico Silvestri, professore di glottologia linguistica all'Università Orientale di Napoli e di Nicola Gardini, docente di letteratura italiana e comparata a Oxford. L'estrema versatilità di un artista come Davide Cavuti, dalla musica, organizzatore di eventi, adesso anche regista con questo docufilm, con un cast tra l'altro eccezionale. Sì, hai detto tutto tu, io rimango un compositore musicista, la regia è un vezzo, avevo iniziato con Alessandro Cicognini, un film che ha dato tanto riscontro positivo, di critica, di pubblico e quindi ho voluto omaggiare un altro figlio della nostra terra, che è Ovidio, che merita tanta attenzione, a volte questi grandi figli dell'Abruzzo sono dimenticati e quindi dobbiamo noi contemporanei rifarci a loro in una sorta di bifrontismo, guardare indietro e guardare avanti, proiettarci in avanti. Oltre ai grandi artisti abbiamo un grande territorio da valorizzare e sicuramente in questo progetto abbiamo parlato anche con le immagini, ci sono le immagini del Morrone, della Maiella, del mare, un territorio straordinario, non lo scopro io, che è l'Abruzzo, io sono abruzzese e quindi è un dovere il nostro omaggiare i grandi figli di Abruzzo e il nostro territorio.